un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash ragazzi perché oggi finalmente dopo due giorni sono riuscito a portare a livello 200 a nubis ragazzi e quindi siccome lo devo continuare a far salire gli ho dato anche spiegare due quindi expa davvero in fretta possiamo andarli a fare ragazzi la magica evoluzione con 20.000 frammenti anche perché ragazzi sto pensando che siccome non posso metterci soldi al momento sul gioco non posso andarmi a cercare copie in quanto è più importante il talento quindi visto che era tantissimo tempo che non trovo un eroe nuovo non me ne importa molto di andarci a spendere 80.000 frammenti per tutte e due levo gli porto su anche la skill per questo è un errore ragazzi talmente forte che una volta trovato va assolutamente portato su quindi ci ritrovi ci riprendiamo 263 libroni e lo evolviamo ragazzi fighissimo evo 1 gli vado a dare qualche libro di quelli che ho ritiriamo anche questi ma non lo portiamo troppo su perché ovviamente è avendogli dato spiegare è meglio farlo salire con dungeon e ondate quindi andiamo a portarlo su un po ok andiamo a potenziare per la nona stella ragazzi eccolo qui pronto per arrivare al livello 180 a questo punto conviene dargli le ondate ovviamente e andiamo a spazzarli in un bel po vediamo un po quanti livelli ho 19 carte 18 al momento facciamo così vediamo un po allora riproviamo vediamo a che livello ci troviamo 62 quindi penso che tranquillamente posso dargli le tutte quante vediamo un po 10 220 798 vediamo adesso a che livello siamo 66 quindi spensieratamente possiamo dargliene almeno altre 4 va bene queste ce le teniamo e 14 dungeon andiamogli a dare tutti quanti si trova al 66 da tutti quanti dungeon forse arriviamo a 67 diamo un po 68 addirittura e quindi adesso non rimarrà molto per seconda evoluzione mentre sale ovviamente portalo sui frammenti se a culo ragazzi ogni tanto provo a fare un roll mi esce un doppione ben venga se no non ho modo di cercare copie più di tanto quindi preferisco spendere 20.000 frammenti che comunque non ci metto 60.000 frammenti che non è poi così tanto arrivati a questo livello quindi se questo video ragazzi vi è piaciuto lasciate un bel like e un commento fatemi sapere che ne pensate io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video